Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Si, io sono un attraggio! We're going to see retreat first first of us one. There is no way, I begle. In the Brazilian region right now. Tell me why relentless return... BOOM! Bro, don't do that curse! Don't do that bro Oh my god Oh my bro That just scared Nah bro Don't do that bro That just scared me One guard Dead Jump in I'm sure I'm sure I'm sure I'm sure I'm sure I'm in 100 full box 200 No bro It actually worked I told you it worked Let's just blade out of here bro Oh my lord Oh my god bro I missed the blade bro I miss it Is there only going to be one blade on the map I'm gliding in right now Oh yeah yeah I'm gonna go up to y'all Yep I'm up here Uh dead? What? That's wild I uh Blarding? Nah it's okay bagsy It was fine for the meantime Why does my tweet say that? Hi Hello You notice any uh Any differences? No Hello Holy y'all Holy crap Aueh 600 Thanks 4 to jest 64 5 to jest 54 Potem 44 40 40 40 30 Widziałem Kolejna headshot OITZ! To jest Headshot za headshotem za headshotem To jest trzeci strzał ze snajperki od Kinga W którym po prostu no Rywali w boxach deklazuj Ale ja chciałem zobaczyć powtórkę Bo na czacie przelicął do tak był NOSCOYou w tego gościa Ja tej pierwszy nie widziałem io ho bisogno non lo scopero non è vero i sono down absolutely io non preoccupi ma non è però non è io non ho frauto perché ho fatto ma viene mi è piú lui? ma è ma è è io non 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 vai non è sono er sono il è che sono lì, 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 lì Ah, da come 3 stucke Scheiße Oh, wie viele Cuidadito la Kingola Lava Che? 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 Bro, va hasta arriba Che? Acaba de pegar un Nosecoop a 200m y luego un head shot a 300 Che? Che? No, no, che? Che? Tu estás de collo, bro Che es esto Hostia, este niño Dentro anche Kiri Ping Primo encuadrato Eccoli qua Kiri e Ping Motivatissimo il nostro Kiri Pronto a sfondare tutto E oggi giorno importante, buga nella stessa tornata, nello stesso momento, all'ingresso, in postazione, la banalita che ci saluta. Eccoli qua i player che andremo a guardare oggi, ecco il Moods, balletti che ci regalano. Chi li dovrebbe avere la postazione sulla sinistra dei player che scendono, quindi per regolarvi da quel lato. Il pubblico urla in una maniera che non potete immaginare, un'emozione unica, unica, unica. Filo, grazie mille del Prime, guarda se oggi mi fanno piangere di nuovo. Oh, oh god. Oh, you're already in here, huh? But I don't think you're on the boss yet, so... Jack, shh, shh, don't tell him. He tapped her out! 5, algo che non quadra per nada. Vuelta a casa per navidad, quieren despertar, quieren despertar esa sensazione in la peñita e che vuelvan tutti questi criminali. Y Degreve lo sabía, Degreve lo sabía, tío. Cómo lo sabía ya, le filtran las cosas o qué pasa? Hay 88, le damos ya. Le damos ya. 5 games. Yup. 5 games. 5 games. And then this is gonna be 6 games. Okay, so, those are the people who get to play day 1. From those 5 games and those 50 teams, the top 25 teams are gonna go straight through to the Grand Finals. Yes? The bottom 25 are gonna play on day 2. This is the 25 teams that didn't qualify here, and they're gonna be filled out with the other 25 teams from Last Chance Major. Which was a tiny mini FNCS at the end of the season. And it's exactly what it sounded like. It was the last chance to qualify. So, teams like Clix, teams like Mr. Savage, they only get to play day 2. And then if they manage to get top 25 on day 2, then they will also go through to the Grand Finals to play against the 25 teams from day 1. That has to have made sense. I genuinely can't make it clearer than that. Der Sniper hat mir abgeschossen. Wait, was ist das denn? Der Sniper da noch am Berg. Ich treff gar nichts mehr. Kaputt. Ich bin down. Wir brauchen hier Hilfe, aber Freddy ist nicht da. Ich hab mich noch gefreut, dass ich was getroffen hab, aber wir haben mehr getroffen. Ich bin hinter euch, aber er hält noch. Ey, ihr solltet nicht zu deep gehen beim Feinden. Da kommt immer mehr. Da sind legit 6 Leute vor euch noch. Einer down? So nicht? Ihr solltet euch, wenn dann, eher zurückziehen. Da sind so viele Leute. Fort perfekt. Ich links, 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 links. Ah, da kommen drei Stück wieder. Oh, wie viele das sind. Insane. Bei mir? I need to get off. Sì Sono il amor, sono... Me tirano solo Lontan me può comprare la casa, sono... 3 volte si querono